Siamo arrivati da poco a Salerno, adesso siamo alla ricerca della Villa Rizzo. Day one, siamo in preparazione, stiamo aspettando Federica che era a casa a truccarsi e dopo partirà la prima challenge dove Federica dovrà infortunare, molestare dei passanti e insomma vedremo che accade. 52,7 viva! Quando uno è così manager che non gli bastano più. Sì, sì, sì! L'uscito di voi, bastardi! No, lo teniamo tutti ora! Freezer, sei un folle! E oggi è dura! Ciao! 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 Bravo, amico eh! C-A-S-A-L-I-G-I-E-R Casa Ligia Volevo ringraziare la produzione Simple per l'attrezzatura ultra professionale che ci ha messo a disposizione.